Attenzione nazione laziale! Abbiamo una notizia fresca per voi. Secondo informazioni del rinomato giornalista Gianluca Di Marzio, la Lazio è in trattative avanzate con il Flamengo per la vendita del nostro talentuoso centrocampista Marco Santonio. Marco Santonio, nato nel 2000, è arrivato nel nostro amato club Capitolino nel 2022, proveniente dallo Shakhtar Danetsk. Da allora, ha mostrato il suo talento e conquistato il suo spazio in campo, guadagnandosi l'affetto e il rispetto dei tifosi. Ora, sembra che il destino del giovane brasiliano possa essere sul punto di cambiare. Le conversazioni tra Lazio e Flamengo sono in corso e tutti siamo ansiosi di vedere come si svilupperà questa storia. Il nostro centrocampista tornerà in Brasile? Se sei un fan della Lazio, questa è una notizia che non puoi perdere. Resta sintonizzato sul nostro canale per ulteriori aggiornamenti su questo possibile trasferimento e altre novità del nostro club. E tu, tifoso laziale, cosa ne pensi di questa possibile vendita di Marco Santonio al Flamengo? Lascia il tuo commento qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e condividerlo con gli amici. Forza Lazio, seguiamo insieme ogni passo della nostra squadra.